Un signore di quasi 100 anni che si chiama Raffaele e proprio lui, Raffaele Purifico se non sbaglio, mi ha detto io ho fatto lo scout per tanto tempo e poi scava scava mi sono ricordato che 40 anni fa l'ho conosciuto quando ho fatto un po' di scout pure io a Porto Potenza Picena, a Santo Stefano. La guida lo scout, con il loro onore nel meritare felicia, sono le ali, si rendono utili e aiutano gli altri, sono amici di tutti e fratelli di ogni altra, guida e scout, sono cortesi, amano e rispettano la natura, stanno a obbedire, sorridono e cantano anche nelle sue libertà, sono laboriosi di economia, sono puri di pensieri, parole e azioni. La giusta e retta via, mostra mia, la giusta e retta via, e la promessa mia, accoglio Gesù.